Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di 5 giocatori che per me sono sottovalutatissimi e sono stati anzi sottovalutatissimi, che molti ricorderanno, alcuni si sono ritirati da qualche anno, altri sono più recenti dei giocatori con cui sono cresciuto e che per me avevano un valore incredibile e come ho fatto per i giocatori più scarsi della Serie A di quest'anno, anzi vi consiglio di andare a vedere il video quindi ve lo lascio in descrizione, farò allo stesso modo un giocatore per ruolo più un bonus che in generale potrebbe essere di un ruolo qualunque e voglio partire ovviamente dalla porta e in porta metto un giocatore che ho adorato, un giocatore che per me era incredibile io ho iniziato a giocare in porta grazie a lui e dopo sono rimasto affascinato da Buffon che ovviamente conoscevo e aveva iniziato a giocare già da prima che io nascessi però quello che mi ha veramente fatto venire la voglia di iniziare a giocare in porta era un giocatore per me incredibile, inserito ultimamente tra i portieri più forti della storia che però per anni è rimasto sottovalutato, non ha mai vinto Coppe del Mondo vendendo una donna nazionale minore, in un certo senso chiamiamola così non ha mai vinto un europeo per lo stesso identico motivo è un giocatore che ha vinto, ha vinto la Champions, ha fatto bene, ha vinto campionati in Inghilterra in particolare è un giocatore che ha vinto però non ha vinto mai a livello mondiale appunto la Coppa del Mondo o comunque anche la Coppa Europea perché ha avuto la sfortuna di nascere in una nazione in cui in quegli anni e in realtà tuttora non vi è un calcio di così alto livello da poter competere a un titolo di quel tipo e sto parlando di Petr Cech Petr Cech è un giocatore che poi ha un cognome particolare lui è della Repubblica Ceca, ha il cognome Cech ma parte questo, Petr Cech è stato un giocatore fantastico penso che chi mi stia ascoltando lo conosca perché forse i ragazzi di adesso lo conosceranno poco comunque si è ritirato un po' di anni fa non so dire con precisione quando ma si è ritirato un po' di anni fa è il giocatore che mi ha fatto appassionare al mondo del portiere che mi ha fatto venire la voglia di giocare a calcio e giocare in porta ho iniziato a giocare in porta all'età di 6 anni appena ho iniziato ho deciso che il ruolo che volevo portare avanti era quello del portiere perché io e mia cugina ogni volta vedevamo lei giocava a calcio vedevamo i video, gli highlights, i video in generale su YouTube in cui c'erano i giocatori noi utilizzavamo il computer solo ed esclusivamente per vedere quello e vedevamo nel 2007 e poi nel 2008 e così via vedevamo video di attaccanti, di portieri di quegli anni in generale comunque io rimasi colpitissimo da Petr Cech e dissi che volevo giocare in porta per essere come lui una cosa che sicuramente non sono riuscito a fare ma Petr Cech era un giocatore incredibile, un'esplosività incredibile aveva grandissimo riflesso, era bravo nelle uscite era un giocatore a tutto l'ondo, un portiere di altissimo livello io se lo dovessi mettere in un'occasione mondiale dei portieri più forti nella storia lo metterei personalmente dopo Buffon che metto al primo posto senza ombra di dubbio proprio senza proprio parlarne dopo Casillas, dopo Neuer però poi metto Cech cioè per me Buffon, Neuer e Casillas sono i tre portieri più forti di sempre ovviamente parlo anche di chi ho conosciuto perché molti mi direbbero eh ma Yashin, Yashin giocava in un periodo in cui il calcio non era come adesso ma poi in generale io non posso conoscerlo non ho avuto la possibilità quindi non posso valutarlo e mi baso su quelli che ho avuto la fortuna di conoscere anche uno Zoff Zoff veniva da un calcio diverso reputato da tutti il secondo portiere più forte nella storia italiana dopo Buffon io non so se posizionarlo tra i primi 5 al mondo perché non l'ho mai visto però di quelli che ho conosciuto quindi dal 2000 sostanzialmente io sono del 2001 quindi tutti quelli che hanno giocato in questi ultimi 20 anni ecco io posso dire senza dubbio che Cech è uno dei portieri più forti della storia però se le altre tre è stato dato adito comunque di mostrarsi, di farsi conoscere comunque tutti e tre hanno vinto la Coppa del Mondo Neuer e Casillas, anche la Champions League Buffon no però tutti e tre si sono fatti vedere Casillas ha anche vinto l'Europeo più di una volta ha vinto due volte l'Europeo e il Mondiale quindi comunque hanno vinto anche a livello internazionale hanno avuto la possibilità appunto di farsi conoscere e soprattutto sono stati ritenuti ottimissimi portieri fin da subito ecco che il povero Cech non ha avuto questa fortuna un giocatore che appunto mi faceva impazzire io me ne innamorai al Chelsea ma lo vidi anche all'Arsenal e era un giocatore che adoravo veramente veramente tanto passando alla difesa un giocatore sottovalutato a cui non è stata data secondo me la giusta importanza a livello nazionale è ritenuto un ottimo giocatore però a livello internazionale è stato sempre messo in ombra dagli altri due che giocavano con lui ovvero Barzalli Barzalli è un giocatore che mi piaceva veramente tanto mi è sempre piaciuto e l'ho reputato fin da subito un giocatore di altissimo livello per carità ha avuto la possibilità grazie a Dio di dimostrare di essere un giocatore di altissimo livello ha comunque giocato tanti anni titolare alla Juventus però lo reputo sottovalutato perché a fianco teneva un Chiellini un giocatore mostruoso io Chiellini per esempio lo reputo uno dei giocatori dei difensori centrali più forti che io abbia mai visto in vita mia Barzalli difensore centrale anche lui secondo me è un giocatore che è stato sottovalutato perché in quel periodo Bonucci era in uno stato di forma incredibile e viveva in una situazione comunque in cui era idolatrato perché era tecnicamente fortissimo Bonucci a livello di gioco palla e sicuramente di maggior livello rispetto a Chiellini uno scarparo Chiellini e anche di Barzalli che è meno bravo a impostare di Bonucci però comunque è stato sempre messo in ombra a Barzalli perché appunto teneva due fenomeni in difesa insieme a lui due al tempo comunque erano fenomeni che io personalmente reputo anche Barzalli un fenomeno cioè quella Juventus era incredibile era illegale quella difesa con Buffon in porta era illegale e appunto teneva Buffon dietro che comunque in un certo senso oscurava tutti perché Buffon ha sempre oscurato tutti però per me appunto Barzalli è un giocatore sottovalutato sottovalutato così come un giocatore centrocampista che giocava spesso in attacco giocatore spaziale secondo me spaziale ovviamente non mi vengono in mente tutti quelli che potrei dire ce ne sono tanti giocatori sottovalutati però vi parlo di quelli che mi piacevano veramente tanto giocatore spaziale Mesut Ozil Mesut Ozil che ha vinto un mondiale Mesut Ozil che ha vinto tanto giocatore incredibile cioè se ne parla veramente troppo poco quando si parla dei centrocampisti più forti della storia dei trequartisti più forti della storia e tutto non si parla mai abbastanza di Mesut Ozil Mesut Ozil per me aveva una tecnica incredibile un giocatore che veramente ha dato tutto è stato sfortunato perché comunque quando giocava in Germania l'hanno criticato l'hanno offeso i tifosi e lui ha ritenuto il caso di chiudere con la nazionale e poi di lì a poco anche in generale col calcio giocato è stato sfortunato anche per gli infortuni ma è stato un giocatore secondo me incredibile perché la tecnica di Mesut Ozil io me la scordo difficilmente è uno di quei giocatori che ho vissuto dall'inizio della mia vita quindi quando ho iniziato a seguire il calcio ho amato anche Mesut Ozil Mesut Ozil comunque secondo me di quelli che ho visto sta sotto pochi ovviamente sotto Pirlo e Nesta Ciavi sì Busquets Busquets un altro giocatore per me sottovalutatissimo a livello di tecnica io l'ho sempre reputato un giocatore fondamentale e formidabile parlando ovviamente invece dell'attacco Totò Di Natale Totò Di Natale è stato un giocatore incredibile sottovalutatissimo perché soltanto perché ha scelto di rimanere all'Udinese ma con lui l'Udinese ha fatto tanto con lui l'Udinese è andato in Champions in Europa cioè portare una squadra di provincia perché l'Udinese fondamentalmente è una squadra di provincia portare una squadra di provincia a giocare Champions League non è da poco e ok ovviamente non è che fa tutto da solo ma quello che dava Totò Di Natale all'Udinese al calcio italiano è stato veramente grandissimo poi viveva in un periodo storico in cui in attacco per esempio nel Mondiale 2006 in attacco c'erano giocatori come Totti del Piero Inzaghi che segnava ogni secondo che non era forte tecnicamente ma segnava continuamente Gilardino Toni cioè viveva comunque in un periodo in cui l'Italia aveva degli attaccanti incredibili e abbiamo anche vinto la Coppa del Mondo attaccanti sottovalutati ma in quel momento in quel periodo storico e per carità la Francia era più forte però quell'attacco era illegale ecco lui è vissuto sempre nel periodo in cui c'era un attaccante più forte di lui e che non gli permetteva di giocare però ciò non vuol dire che lui non sia stato forte quello che ha dato Totò Di Natale al campionato italiano è stato qualcosa di incredibile quello che ha dato all'Udinese ovviamente ancora di più e personalmente la tecnica di Di Natale il modo in cui giocava Di Natale è difficile rivederlo io spero davvero che possa tornare un giocatore che mi ricordi Di Natale secondo me è un giocatore sottovalutatissimo perché veramente era qualcosa di incredibile il bonus il bonus potrei dire tanti giocatori perché anche Busquets che ho nominato prima comunque un giocatore che è incredibile ha una tecnica incredibile cioè non si sente mai in mezzo al campo ma è fortissimo ecco Busquets secondo me è sottovalutato in realtà anche parecchio poi ultimamente col fatto che negli anni si sono ritirati i vari Chavi Iniesta e comunque se ne è andato anche Messi e tutto hanno iniziato a capire che in realtà il fulcro del gioco era tanto dato anche da Busquets però fino ad adesso pochi lo hanno capito quindi Busquets io lo reputo un giocatore molto sottovalutato però voglio dire un bonus un bonus in porta perché sono legato al mondo del portiere sono portiere e quindi voglio dire un portiere portiere adesso conosciuto però sempre considerato esotico è Francisco Guillermo Ochoa Ochoa giocatore messicano ormai di un'età più avanzata se non sbaglio a 38-39 anni però ha ottenuto fama con i mondiali in una maniera incredibile un giocatore fondamentale per la squadra per ogni squadra in cui ha giocato un giocatore incredibile perché poi stravagante comunque negli anni ha scelto per esempio allo standard 10 giocava con la maglia numero 8 in altre situazioni ha giocato con la maglia numero 6 cioè era stravagante come portiere un giocatore incredibile che adesso a 38 anni fa ancora la differenza e che adesso gioca alla Salernitana quindi qualcuno soprattutto i ragazzi più giovani lo stanno iniziando a conoscere però però finora finora Guillermo Ochoa chi lo conosceva lo conoscevano gli appassionati di calcio ma cioè non è stato tanto conosciuto non gli è stata data fama anche lui un altro portiere che vive in una nazione che cioè è comunque messicano non è che il Messico abbia mai fatto chissà che cosa di emozionante nelle coppe del mondo in generale comunque Ochoa è un portiere fortissimo ha un riflesso incredibile è alto 1,85 che essendo portieri non è un'altezza elevata cioè il portiere standard deve più o meno avere 1,90 di altezza i centimetri di meno che fanno la differenza in lui non si vede cioè la differenza è che in lui non si vede davvero ho citato tra i portieri più scarsi secondo me della Serie A ho citato Meningović-Savic alto 2,2 metri che ha più di 15 centimetri in più di Ochoa ma para la metà di quello che para Ochoa esce molto peggio di Ochoa quindi alla fine l'altezza si è relativa però comunque il caro Ochoa veramente in un certo senso a livello fisico è più svantaggiato di altri eppure è un giocatore impressionante un giocatore a cui non è stato dato tanto importanza e sicuramente non lo reputo tra i 5 portieri i più forti del mondo questo sia chiaro perché comunque appunto prima avevo detto Buffon Casillas Neuer di quelli che ho conosciuto ribadisco di quelli che ho conosciuto Cech ovviamente il mio caro amato Cech e poi metterei De Stegen adesso sinceramente De Stegen è un grandissimo giocatore che sta giocando adesso solo perché Neuer si è ritirato dalla nazionale ma pure lui ha avuto la sfortuna di trovarsi davanti un Neuer o anche metterei un Donnarumma perché personalmente mi piace veramente tanto però in generale Ochoa non lo metto tra i primi 5 però lo posso tranquillamente mettere tra i primi 10 al mondo e lo reputo un giocatore incredibile che ha giocato sempre in squadre così il Granada oltre alla salenità nel Granada della più conosciuta ma poi Standard Liegi Club America squadre di minor livello mi dispiace perché arriva a 40 anni quasi che il massimo raggiungimento è comunque una squadra di serie A per una squadra che gioca nei nei bassi fondi della classifica italiana così come il Granada quando ci giocava lui quindi dispiace per quello perché lui avrebbe tranquillamente potuto giocare al posto di tantissimi altri portieri il Ochoa di prima non lo metterei al Milan però lo metterei in qualunque altra squadra di serie A quindi Ochoa veramente è stato un giocatore incredibile e mi dispiace perché lui che peraltro si chiama come me in versione spagnola Francisco Guillermo io Francesco Cuglielmo lui che si chiama come me ha il numero 13 sulla schiena come me e comunque è portiere come me ecco ancora di più c'è un legame effettivo tra i due la differenza è che lui gioca ad altissimi livelli ed è un fenomeno io no però a parte questo secondo me questi sono alcuni dei giocatori che ho visto bene veramente bene che per me sono sottovalutati fatemi sapere la vostra nei commenti e spero che il video vi sia piaciuto noi come sempre ci vediamo nel percorso grazie a tutti